ciao a tutti ragazzi benvenuti nel canale gameplays e un saluto al vostro amico salvo in questa mini clip ragazzi vi annuncio che non continuo col gioco until down per un semplice motivo ieri sera avendo trasmesso il titolo in diretta live sul mio canale una volta finita la diretta live stamattina mi sono arrivate diverse mail da youtube dove mi contestano l'audio per violazione di copyright ma anche il video ragazzi c'è questa cosa per me è nuova non lo sapevo ho dovuto per forza cancellare il video per non correre in problemi ragazzi quindi a questo punto visto che con questo articolo 13 sta veramente diventando un po complicato trasmettere live su youtube io trasmico su twitch sto tranquillo lì ragazzi quindi vi chiedo ancora scusa vi dico che non andrà in onda stasera il seguito in taccaso lo porto su twitch ragazzi quindi ora io vi saluto e vi do appuntamento sempre in diretta live ciao alla prossima ragazzi